Ciao a tutti, oggi prepareremo il mascarpone. Il tempo di preparazione della ricetta è di 15 minuti più 16 ore di riposo in frigo. Gli ingredienti sono panna fresca, latte intero, sale e succo di limone. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte, la panna, il sale e il limone. Ed azioniamo il bimbi per 10 minuti, 90 gradi, velocità 1. Il composto è pronto, lasciamolo raffreddare all'interno del boccale. Una volta che il composto si è inchievidito, prendiamo un contenitore, mettiamo all'interno del cestello un canovaccio e versiamolo all'interno. Posizioniamolo in frigo e lasciamolo riposare per almeno 15 ore. Il mascarpone è pronto, rimuoviamolo dal canovaccio e trasferiamolo in un contenitore. Mascarpone si conserva in frigo in un contenitore ermedico per due giorni. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!